La palla Canesso sta prendendo sempre più piede nel nostro territorio. Una più che sostanziosa prova è stato sia il campionato del CSI disputatosi quest'anno, sia il giorno delle finali che si è giocato l'ultimo weekend di maggio al palazzetto del CSI di Villa Dossola. Squadre di Domodossola, Ornavasso, Omigna, Gravellone e Verbania hanno dato vita ad una stagione divertente, tutte composte da ragazzi e ragazze più o meno giovani, che continuano a coltivare la passione per la palla spicchi e che dopo una giornata di lavoro si ritrovano per fare squadra. Quest'anno il trofeo è stato vinto da quelli del Lago, con pagine proveniente da Omigna, che comprende un paio di giovanotti ancora in grado di fare la differenza, del calibro di Marco Tamini e Alessandro Burlini. La finale, avvincente, decisa solo negli ultimi secondi e chiusa 53-51, è stata vinta superando i Mountaineers di Domodossola, la squadra più giovane del campionato protagonista di una stagione fantastica. Terzo posto per i Mad Shooter di Gravellona, quarto per gli Hoopers di Domodossola, quinto gli Ornavando Magic di Ornavasso e chiudono la classifica gli Oververbania. Si è svolto anche il contest tra i punti di memoria di Fabio Tosi, vinto da Andrea Pucci dei Mountaineers. Il bilancio stilato al termine di questa annata è stato più che positivo, capace di comprendere tante persone con tanta voglia di giocare e competere.